Estro e fantasia, qualità e imprevedibilità, colpi di classe e magie non per tutti. Virtus Franca Villa Taranto in programma domenica sera sarà anche una sfida nella sfida tra Pasquale Magliorino e Giuseppe Giovinco. Piedi educati, una visione di gioco fuori dal comune, due calciatori così diversi e così simili. Uno Magliorino più tre quartiste al rifinitore, l'altro Giovinco meglio da esterno, ma che in avanti può ricoprire anche il ruolo di falso 9 o seconda punta. Pasquale ha dato al 3-5-2 mascherato in un 3-4-1-2 che è in mente Taurino, Giuseppe per il 4-3-3 di la terza. In trecci, corsi e ricorsi, il fantasista Biancazzurro è nato a Taranto e contro il Rosso Blu vuole partire col botto regalandosi il primo gol con la maglia della Virtus. Dopo il clamoroso e tanto sognato ritorno, anche 41 presenze inseribili in carriera, categoria soltanto sfiorata dal fratello di Sebastian, ex Juve Parma tra le altre, e che al Giovanni Paolo II potrebbe pure partire dalla panchina, nonostante in estate da svincolato si sia tenuto in forma allenandosi in maniera intensa e quotidiana. Oltre 300 presenze a testa in carriera, 77 gol e 30 assist per Magliorino, 64 risultanze e 24 passaggi vincenti per Giovinco, bastano anche solo questi numeri a capire che Francaviglia Taranto avrà due grandi protagonisti.